Ciao, questa è la prima volta che sentirete la nostra voce. Io sono Aurora e oggi vi racconteremo cosa facciamo in CHI. Ciao, sono Marco e nell'ambito di servizio civile con il CHI mi occupo di progettazione e monitoraggio, affiancando Nuria, la strategic advisor di CHI. Sono Gabriele e all'interno di CHI lavoro con lo staff di comunicazione. Mi occupo di cose come la scrittura di post o la definizione del messaggio per il nostro progetto. Ciao, sono Aurora e insieme a Patrizia mi occupo di educazione e di raccolta di materiale didattico. Inoltre ci stiamo occupando della scrittura e delle attività che andranno all'interno del nostro progetto di rotta alla discriminazione. Io sono Patrizia e il servizio civile, oltre ai nostri ruoli e tante altre cose, la vita in ufficio, il lavoro di gruppo, il rapporto per ragazzi e ragazze e tante opportunità a sorpresa. Tutti gli ingredienti per una bella storia.